Giochiamo con Willy, la curiosità della mostra dell'artigianato e abbiamo qui colui che fa, che realizza materialmente, Willy che è nato 40 anni fa. Ci vuole aggiungere qualche cosa? Eh, dovete venire a vedere Willy alla fiera perché è meglio di vedere in diretto, ecco, Willy può fare tante cose, può fare cascare, Willy va a fare un doppio salto così, doppio salto riuscito, più forte Willy va a saltare nel piccolo buco, ma che brava, vieni qua, fa la timida un pochettino, ma che carino, la carezza va a dormire, adesso attenzione, va a fare il salto mortale. Questo è molto pericoloso, dai Willy, aia, ce l'ha fatto! E quando è stanco la mette sulla spalla così, ah, non vuole, vuole lavorare per sempre, una carezza e adesso dorme tranquillamente Willy, che bella, no? Et voilà! Bellissimo, allora veniamo tutti a giocare con Willy.